sempre e comunque forza napoli un giorno all'improvviso mi innamorai di te buongiorno io e forza napoli allora io c'ho un messaggio per tutti i rubendini cari rubendini io lo so che vi brucio il culo però tenito bevande non vi posso sempre parare ai vostri bruciori però vi voglio dire visto che a voi veramente ma brucio culo e poi chiamate ladri a noi su questo rigore ovviamente vi dico che era rigore si c'è sto rigore anche se sta con le mani attaccate a colpa però ostacola la palla spostandosi prende la palla col braccio e quindi a calcio di rigore fino a qua ci siamo ok ma bu però essere chiamato ladri da voi è come si alfonso signorini chiamassero il giorno a roccosi freddi e tola qua non c'è mancava niente e poi un mariole chiama ladranata rubendi rubendi fai pace col cervello quello era calcio di rigore ma questo video questo video che mo ti faccio vedere che ora ti faccio vedere erano tre calci di rigore in una sola azione questo video qua e nelle tv non si vede fanno fare solo quello che vuoi fare comodo a voi quindi prima di parlare di noi chiudete il cesso chiudete il cesso questo è il problema non sapete cosa dire non sapete cosa dire non sapete vi ho fatto vedere un rigore che c'è e l'altro che solo quell'azione che ha buttato in terra ce ne avevano tre ricordi a quella azione per la gravità del rigore quest'anno quindi chiudete o cesso e state muti e asso ciao a chi e forza napoli perché tutto riesce a munnezza e si chiedono sempre ciao a chi e forza napoli a chi e per la gravità